Ciao a tutti e benvenuti sul Cinepreso. Oggi parleremo delle ansie e dei timori legati all'imminente uscita di Alien Covenant. Alien Covenant è diretto da Ridley Scott ed è l'ennesimo capitolo del franchise di Alien. Ridley Scott è lo storico, mitico e incredibile regista che aveva portato alla luce quella perla del primo Alien. Covenant, stando alle informazioni che abbiamo, che ci sono state date fino ad ora dal marketing, si dovrebbe collocare poco dopo le avventure di Prometheus. Film che ho trovato molto affascinante ma allo stesso tempo un vero casino dal punto di vista della trama. La sceneggiatura era stata affidata a Adam Lindelof e che è stato anche lo sceneggiatore di Lost che ha fatto di tutto per incasinare il film. Con Alien Covenant, da quello che abbiamo visto nei trailer e nelle clip mostrate in internet, sembra che Ridley Scott sia tornato alle atmosfere più classiche. Ma, nonostante tutto, non posso che essere terrorizzato da quello che può uscire. In questo video voglio quindi raccontarvi quali sono i miei timori e le mie aspettative e se avete voglia scrivetelo anche voi nei commenti. Il primo timore, effetti pratici o CGI? Diciamocelo, uno dei grandi punti di forza della saga di Alien è l'uso di effetti pratici. Al giorno d'oggi non è semplice notare la differenza tra una cosa che esiste veramente sul set o una cosa che è stata ricreata successivamente al computer con green screen o quant'altro. Anche se non avete un occhio particolarmente attento, però potete notare le differenze a livello di atmosfera e a livello di regia. Infatti, una scena ambientata in un set permette alla videocamera di muoversi molto più liberamente all'interno degli ambienti, di fare delle zoomate su dei dettagli o agli attori di utilizzare l'ambiente che hanno intorno come strumento scenico. E quindi possono appoggiarsi a una colonna, possono tirare un pugno a un muro, oppure possono mettersi a correre in corrida di strettissimi in cui il rumore dei passi o l'ombra non sono ricreati artificialmente. Io quindi spero, chiedo, supplico a Ridley Scott di utilizzare effetti pratici, ma da quello che abbiamo visto nei trailer e nelle prime clip, dovremmo esserci. Il secondo grande timore, remake, prequel, reboot. Che cosa sarà questo Alien Covenant? Forse il sequel del prequel, ovvero di Prometheus, ma la speranza da cinefile e da fan è che la trama possa trovare una conclusione logica, possa trovare un inizio e una fine senza far parte di quella gigantesca serie tv che sta diventando il franchise. Quindi, sceneggiatori, vi prego, non rimandate la gran parte delle risposte al terzo e forse ultimo capitolo. Vi scongiuro. Mentre infatti per le serie tv possiamo passare immediatamente al capitolo successivo. Per il cinema dobbiamo aspettare anni e anni di preproduzione, produzione e postproduzione per vedere il prodotto finito. Io credo che sia necessario dare una soddisfazione allo spettatore che riesce ad arrivare alla fine di due ore di film. Nello spazio, infatti, nessuno può sentirti chiedere spiegazioni all'amico seduto di fianco. Il terzo motivo è invece legato alle atmosfere della film. Se c'era infatti una cosa buona in Prometheus, era quella sensazione di grandissimo complotto spaziale. Quell'idea che dietro all'origine della razza umana ci fossero delle altre creature molto più avanzate ed evolute di noi e che fossero ancora in vita, o forse no, e l'origine degli alien a cosa dovuta. Ecco questi misteri, questa fantascienza sporca di atmosfera, mi piacciono tantissimo e spero che vengano mantenute anche in Alien Covenant. Perché, lo ripeto, sono forse la parte migliore di quel macello che è Prometheus. Ho anche grandi speranze per questo film. Uno dei punti per cui lo attendo di più è sicuramente legato all'aspetto orrorifico. Sappiamo che il film in America sarà vietato ai minori, abbiamo visto un sacco di trailer che sono anche piuttosto sanguinolenti e pur non essendo un grande fan dello splatter e del sangue ad ogni costo, mi sembra che l'atmosfera di terrore dello spazio sia azzeccata. Per fare bene Alien bisogna inoltre capire che l'alieno non è il vero protagonista del film, ma è l'ambiente, lo spazio, i pericoli che derivano dall'essere da soli, lontani dalla Terra, in migliaia di anni luce. Se dovessi dare un consiglio al regista e alla troupe, direi di tenere bene a mente quello che era il vero valore del primo Alien, ovvero che il protagonista non era lo xenomorfo, ma era l'ambiente stesso, era l'idea di uno spazio in cui perdersi, in cui appunto nessuno può sentirti urlare. Se rivedete il primo Alien, si nota subito quanto l'alieno in realtà sia nascosto per la maggior parte del film e sia una presenza vaga, immateriale, che lo spettatore non vede l'ora di vedere, ma allo stesso tempo è terrorizzato a morte. Per fare un vero nuovo capolavoro, allora Ridley Scott deve fare solamente una cosa. Non dare allo spettatore seduto in sala quello che vuole o quello che si aspetta, ma come nel film del 1979, stare un passo avanti, giocare con le nostre ansie, con le nostre paure e con le nostre aspettative. Curare il montaggio, gli effetti speciali, le scenografie, le inquadrature, tutto per restituire la sensazione di essere in un mondo in cui tutto può cadere e nulla è come ci aspettiamo. Come sempre allora io vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciarmi dei pareri nei commenti e ci rivediamo presto, sempre qui con tanto cinema. Ciao!